dal vangelo secondo giovanni la sera di quel giorno il primo della settimana mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei venne gesù stette in mezzo e disse loro pace a voi detto questo mostrò loro le mani e il fianco e i discepoli gioirono al vedere il signore gesù disse loro di nuovo pace a voi come il padre ha mandato me anche io mando voi detto questo soffiò e disse loro ricevete lo spirito santo a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati parola del signore siamo alla terza e ultima tappa del tempo pasquale la pentecoste il signore è morto seppolto risorto asceso al cielo cioè entrato nella gloria oggi dona il suo spirito manda il suo spirito sulla chiesa il famoso paraclito di cui si aveva parlato qualche settimana fa il paraclito cioè l'avvocato difensore il consolatore lo spirito della vita abbiamo oggi ascoltato il vangelo che abbiamo letto anche il giorno di pasqua e cioè il vangelo di giovanni in cui la pentecoste per lui pentecoste sapete vuol dire cinquantesimo giorno sono passati 50 giorni sette settimane dal giorno di pasqua ecco invece per il vangelo di giovanni la pentecoste cioè il dono dello spirito avviene la sera stessa del giorno di pasqua proprio a sottolineare l'unità di questo mistero e come ce lo racconta giovanni ecco Gesù appare a porte chiuse o meglio forse sarebbe meglio dire si manifesta perché appare sembra un fantasma invece si manifesta a porte chiuse nel cenacolo sta in mezzo a loro mostra le mani e il fianco quindi come dire si fa riconoscere che lui è il crocifisso che però è vivo ed è risorto augura la pace e poi la grande missione come il padre ha mandato me anche io mando voi e a questo punto fa questo gesto soffiò un gesto che a noi può sembrare strano soffia cosa perché Gesù soffia sugli apostoli e dice ricevete lo spirito santo perché era il gesto che come molti ricorderanno che Dio fa nel racconto della genesi quando crea l'uomo quando crea l'uomo Dio fa un pupazzo con la terra con l'argilla e poi gli soffia il suo spirito e questo pupazzo inerte diventa un essere vivente cioè noi partecipiamo dello spirito cioè del respiro di Dio che dà la vita ecco Gesù qui soffiando sugli apostoli e dicendo ricevete lo spirito come dire inizia una nuova creazione rinnova la creazione e questa volta con il dono irrevocabile dello spirito santo e che cosa vuol dire ricevere il dono dello spirito santo vuol dire ricevere il perdono a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati cioè lo spirito ripara restaura diciamo così la vecchia creazione ferita dai nostri peccati con il perdono e ci immette in una vita nuova la vita dei figli di Dio la vita dell'amore la vita della creazione secondo il sogno di Dio il sogno di una umanità finalmente fraterna finalmente riconciliata con Dio con i fratelli con la natura ecco invochiamo il dono dello spirito su di noi sulla chiesa oggi la liturgia è tutto un vieni santo spirito riempi i cuori dei tuoi fedeli accendi in essi il fuoco del tuo amore perché lo spirito santo è l'amore di Dio come dice Paolo riversato nei nostri cuori ecco accendi questo amore signore in noi perché possiamo davvero andare come il padre ha mandato me anch'io mando voi perdonati riconciliati con noi stessi e con i fratelli possiamo diventare anche noi operatori di pace di riconciliazione capaci di quell'amore che non è più schiavo dei sentimenti degli alti e bassi dei nostri limiti ma di un amore più forte più grande un amore disposto a donarsi senza chiedere nulla in cambio grazie a tutti 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 Grazie a tutti.